Agrifoglio per Firenze uscite con un 3 a 1 a sfavore per te sensazioni importanti credo dal campo ma diciamo che non è stata una bella giornata assolutamente perché Ila è veramente una mia amica è stata veramente una cosa molto molto brutta ci tengo a dire che quando sono entrata pensavo soltanto a lei quindi a poter giocare il meglio possibile per lei per la squadra e dare quello che avevo per farsi riuscire a vincere purtroppo Milano sappiamo che è Milano quindi così è andata ma cerchiamo di spingere l'ultima partita contro Cuneo grazie